JEEP è un simbolo di libertà. E il nuovo lancio JEEP arriva nel momento giusto, mentre un passo dopo l'altro stiamo tornando alla libertà. Gli stabilimenti FCA in Italia hanno ripreso a produrre, in condizioni di sicurezza, mettendo in pratica tutte le misure concordate con governo, sindacati ed esperti. Anche i concessionari FCA hanno riaperto il 4 maggio, nel rispetto delle norme e di tutte le cautele necessarie, applicando un protocollo di salute efficace e sicuro per i dipendenti da un lato e per i clienti dall'altro. Mopar ha fornito alla rete i materiali necessari, detergenti per mani e superfici, kit igienizzanti per auto, segnaletica e strumenti per regolare gli accessi e divisori in plexiglass. In realtà, concessionarie e officine autorizzate FCA non hanno mai smesso di lavorare con e per i clienti. Hanno eseguito interventi a domicilio nei casi urgenti, come ad esempio per i veicoli a uso sanitario. E hanno mantenuto da remoto il contatto con i clienti, ad esempio rispondendo agli oltre 45.000 coupon generati dall'iniziativa Live Week. E hanno avviato Care Tom, un processo digitale per l'offerta di veicoli a distanza, che utilizza Google Meet per la configurazione del veicolo, per l'esecuzione di preventivi, l'offerta finanziaria e per la prevalutazione della permuta. Care Tom è una modalità di vendita semplice, pratica e sicura, che manteremo anche in futuro. Il lockdown ha dato il via a una forte accelerazione digitale e lo si vede anche dalla risposta dei clienti. Ma ora è il momento di riaprire le porte, anche fisicamente. C'è voglia di uscire, c'è voglia di muoversi e c'è voglia di libertà. E a questo Jeep risponde proponendo una soluzione mai vista prima, un'occasione irripetibile per entrare nel mondo del brand. La formula dei 3-0. Zero anticipo, zero interessi e zero rate fino al 2021. È il momento di rimettere in moto l'economia del nostro paese, ripartendo dal vero motore dell'Italia. Gli italiani. Anche Jeep, che è un'icona globale, crede nell'Italia e investe sull'Italia. Le nuove Jeep Renegade e Jeep Compass nascono proprio qui, nello stabilimento di Melfi. Questo vuol dire che oggi comprare Jeep vuol dire comprare italiano. Io vorrei coinvolgere in un abbraccio virtuale tutte le nostre persone che in questo momento, a Melfi, stanno lavorando per produrre un'auto che andrà, oltre che in Italia, in tutta Europa. Il nuovo Compass. Siamo estremamente orgogliosi del lavoro, della grande qualità di Renegade e di Compass. e quindi di tutto il team Jeep italiano e americano. Ora la palla passa a tutti i nostri concessionari italiani, che come sempre trasmetteranno la grande qualità di Jeep ai clienti. Let me share your pride. Grazie alla nostra squadra di Melfi e Torino. America, the U.S., where Jeep originated. Italy, really where Jeep started, its global expansion, combining forces between U.S. history, Italian craftsmanship, to develop exciting new Jeep projects. And thanks to this extraordinary collaboration, our new Jeep models from Melfi, coming to go anywhere and do anything, that helps us all celebrate a European-Italian comeback to freedom. The new Compass, La Nuova Compass Italiana, is built in a plant where Jeep is really at home. Melfi is where Renegade began production in 2014, so just a few short years ago, and is the first ever Jeep fully built outside of North America. Also, Melfi is one of our most advanced, efficient, environmentally friendly Jeep facilities across the world. It's also the plant that's going to produce our first electrified Jeeps that will be in showrooms in just a few short months. So, the new Compass, one of the top volume models across our Jeep range. And why is that? Because it suits a variety of needs. It works for business professionals that do a lot of daily driving and commuting. It works for adventure seekers that might want to take it off-road. And maybe most importantly, it's really a Jeep that's built for the family. It's a vehicle that can either take your kids to school, a vehicle that can go off-road in any weather, and work really in any commuting situation. So, really, it's all about all-around capability, all-around features. It improves our handling, passenger comfort. And how do we do that? We've specifically aligned the steering suspension systems to European customers' tastes and needs. And also, at the same time, we have an all-new automatic transmission made it to our 4x2 versions for the first time. So, a new offering for our Compass customers. What else have we done? Well, we also want to talk about connectivity because I also think that there's never been a time over these last few months that I think we all need some kind of connection. And we're always connected. We're connected 24-7, whether we're at home, on the road. We need to have access. Embedded connectivity with our Uconnect box, which is a telematic module that gives our customers internet access as well as a full set of connected services. Colors. Who doesn't like colors? And the new Compass offers five new colors, such as this Techno Green to my right. We've got six new wheel designs all across our Compass range from 16-inch all the way to 19-inch wheels. But maybe most importantly, the new Compass adopts our all-new 1.3 turbo engine. Better responsiveness, better fuel efficiency, all across your driving habits. And really, it's an historic engine for Jeep. And not only because of its new design, not only because of its significantly enhanced fuel efficiency, but because this engine is the same that powers our new Compass and Renegade electrified versions, our electrified plug-in hybrid models. They're going to be in showrooms in just a few short months. Global Small Engine is the name of the modular platform, versatile and open on which we are based on our latest generation engine engines and the new T4, four-cylindres, 1.3 litre, is the last side of our family. The Compass is proposed for the previous versions anteriore con due nuove varianti del Global Small Engine, entrambe Turbocompresse. Una da 130 CV, abbinata al cambio manuale, ed un'altra da 150 CV con cambio automatico a doppia frizione a secco, DDCT. Questi motori condividono una concezione innovativa. Intanto hanno un modulo di combustione di nuova generazione, hanno blocco motore e testa cilindri in lega di alluminio al fine di ridurre al minimo il peso ed i tempi di riscaldamento e danno un altissimo livello di innovazione. Immaginiamo il team di allenatori di uno sportivo composto da un nutrizionista, un peacemaker e un coach. Il nutrizionista che decide non solo quanto ma anche cosa deve mangiare il motore è l'iniezione diretta di benzina. L'iniezione diretta gestisce elettronicamente il tempo di funzionamento regolando al tempo stesso l'apertura dell'iniezione. Sceglie la migliore strategia in tempo reale al fine di massimizzare l'efficienza di combustione e ridurre il consumo di carburante. Il peacemaker che regola il ritmo in base allo sforzo esattamente come farebbe un peacemaker cardiaco è il Multi Air 3. Multi Air 3 è un sistema proprietario che consente di controllare l'apertura delle valvole di aspirazione cilindro per cilindro e battito per battito. Il coach che gestisce i picchi di sforzo è invece il turbo a risposta rapida. Si tratta di un turbocompressore di ultima generazione ad inerzia molto molto bassa. Esso integra una valvola Westgate elettronica comandata dalla centralina. Il turbocompressore interviene istantaneamente all'apertura della farfalla o al tocco del pedale senza il cosiddetto turbo lag. E questo grazie alla riprogettazione delle parti rotanti della turbina e del compressore. Il risultato di tutti questi miglioramenti è un'erogazione di coppie a bassi regimi che è tra le migliori della categoria. I programmi di allenamento devono ovviamente essere adattati ai carichi di lavoro. Per passare dalla camminata alla corsa, sulla versione DDCT da 150 CV abbiamo introdotto una nuova funzione, si chiama Sport. Noi sappiamo che la Compass può essere la prima o l'unica auto di famiglia. E proprio per questo abbiamo scelto questa soluzione per accontentare tutti i clienti. Dai genitori attenti ai consumi, ai figli che vogliono invece divertirsi. Il nuovo T41003 della Compass è un motore reattivo, efficiente ed ecologico. Conforme alla normativa Euro 6D Final. Costituisce un altro passo in avanti nello sviluppo della famiglia Global Small Engine ed apre le porte ad ulteriori evoluzioni dei sistemi di propulsione Jeep. Grazie alla connettività offerta da Compass, si può iniziare a vivere un'esperienza Jeep direttamente da casa, dall'ufficio o da qualsiasi altro posto. Ci sono diverse cose che si possono fare ancora prima di salire a bordo. Per esempio è possibile controllare il livello di carburante, pianificare un percorso nei minimi dettagli e perfino chiedere a Compass di ricordarti dove è parcheggiato la sera prima. Con la stessa app si possono sbloccare le porte, accendere le luci solo per fare alcuni esempi. Una volta saliti a bordo, tutte le funzioni si controllano dallo schermo touchscreen di Uconnect. Il nuovo hardware di comunicazione semplifica e velocizza tutte le operazioni ed ha accesso a un'ampia gamma di nuovi servizi, come chiamata SOS, soccorso stradale 24 ore su 24, segnalazione di emergenza di viabilità, ricerca di punti di interesse, messaggi di diagnostica del veicolo e aggiornamento software over the air. Questo e molto altro. Tramite il portale è possibile abbonarsi a servizi opzionali, come l'hotspot Wi-Fi, l'assistenza in caso di furto e la gestione delle flotte. Iniziamo il nostro test drive? Per ragioni di sicurezza oggi siamo qui a Balocco, circuito di prova DFCA, con 80 km di pista che ci permetterà di riprodurre diverse situazioni di guida. Iniziamo la nostra prova con il percorso cittadino. Già a bassa velocità si percepisce il miglioramento nella manovrabilità, grazie alla messa a punto dello sterzo, che diventa più morbido e al tempo stesso progressivo, più adatto ai percorsi urbani. Non solo a bassa velocità, ma anche in fase di parcheggio, questo setup dello sterzo permette di beneficiare di una maggiore facilità d'uso, per chi volesse, ovviamente, è disponibile il sistema di parcheggio automatico. La sicurezza su Compass è fondamentale. Sistemi di ausilio alla guida automatici come Forward Collision Warning e Lane Departure Warning sono di serie su tutta la gamma. Disponibili anche su richiesta, sistemi come l'Adaptive Cruise Control e anche il Blind Spot Monitoring System e quindi permettendo di viaggiare con Compass Modellier 20 al massimo della sicurezza. Questa nuova motorizzazione 1.3 benzina turbo garantisce un'ottima risposta del motore e al tempo stesso una riduzione dei consumi fino al 30%. Andiamo ora a un percorso autostradale. Qui emerge il setup dello sterzo a velocità superiori. Insieme a un setup delle sospensioni rivisto garantisce al Compass un comportamento dinamico molto piacevole e sempre sicuro, riducendo il beccheggio in frenata e riducendo il rollio in curva. Ed è la prima volta per una Compass trazione anteriore, cambio automatico. Questo permette di sfruttare al meglio la risposta del motore rinnovato a 270 Nm e la possibilità di usare la modalità Sport. Si può caricare una mappatura di risposta del motore più pronta tutto in un pacchetto che restituisce su Compass un piacere di guida notevole. Siamo arrivati alla fase finale del nostro test drive effettuando un breve percorso di fuoristrada. Anche se questa Compass è una versione trazione anteriore con cambio automatico il comportamento che ci percepisce subito dai primi metri è estremamente sicuro e solido al tempo stesso. Questo è anche il risultato che siamo riusciti a ottenere grazie al setup delle sospensioni, anche grazie alla tecnologia FSD. In questo pacchetto di fatto siamo capaci di filtrare le asperità del terreno e permettere un comportamento anche su questo tipo di superfici sempre ben filtrato e quindi di garantire un livello di comfort ottimale. Si può sfruttare la risposta pronta ed efficace del motore e quindi divertirsi nei percorsi forestadistici come questo ad esempio. Quindi per Compass la tecnologia è fondamentale. Dal cuore il nuovo motore 1.3 turbo benzina alla mente il sistema Uconnect infotainment sempre connesso con il proprio smartphone grazie alla telematic box. Nel Modelier 20 Compass sarà disponibile in tre livelli di allestimento Longitude Limited S Il quarto, la Trello, che sarà disponibile in una fase successiva anche nelle varianti ibride plug-in. Quindi in questo Modelier 20 abbiamo migliorato i consumi ridotti fino al 30% il piacere di guida grazie alla nuova dinamica dello sterzo e delle sospensioni Ricordandoci sempre che si tratta di una Jeep anche se trazione anteriore e quindi senza mai dimenticare il fattore divertimento.